Parole in movimento alla Mondadori di Nocella Inferiore con Tonino Scala che sta per presentare un libro dal titolo molto napoletano, Lo Sparatrappo, però il sottotitolo lo dici tu. Lo Sparatrappo con un sottotitolo che dice tante cose. Lo spiccia faccende, l'amore e il mistero. Perché lo spiccia faccende? Diciamo mea, mea. Mea edizioni, giustamente. Non possiamo dimenticarci. Non bisogna dire acqua e ullo l'acqua è fresco, quindi parliamo della casa editrice che ho l'onore anche di rappresentare. Mea edizioni, una piccola grande casa editrice napoletana che pubblica tante cose interessanti, però poi ha pubblicato anche meglio. Anche Lo Sparatrappo. Questa è un'altra storia. Lo Sparatrappo ha come protagonista Mario, che fa un bestiere atipico, lo spiccia faccende. Che cos'è lo spiccia faccende? Lo spiccia faccende è tutto il contrario di tutto, è un uomo che campa di espedienti. E in questo espediente protagonista è l'amore. Sono due storie d'amore parallelo e poi c'è il mistero, perché ogni qualvolta si parla d'amore c'è sempre un mistero. Talvolta c'è una truffa, talvolta c'è il mistero. Non faccio commenti su questa tua affermazione. Come hai scelto, perché hai scelto questa declinazione noir, diciamo così, un giallo? Perché da un paio di anni mi sto dedicando anche io al giallo. Questo è il secondo di una serie, perché lo spiccia faccende è uscito qualche anno fa e questo è il seguito. Perché? Perché intorno al giallo, questo è un giallo atipico, così come il precedente, il protagonista è sempre lo stesso, tu ti puoi divertire. Questo è un libro dove c'è un tonino scala diverso dagli altri libri. Non sono le narrative scolastiche, non sono i libri impegnati, non sono i libri dove attraverso la cucina si prova a parlare di territorio, ma è un libro divertente e con il giallo ci si può divertire non poco, perché è anche un giallo abbastanza comico. Come facciamo a spiegare a un non napoletano che cosa è lo sparatrappo? Perché per noi è una cosa normale, ma come lo fai a spiegare? Lo facciamo semplicemente mettendo la D al posto della T, perché nella lingua fiorentina quell'adesivo che serve per curarsi le ferite, una sorta di cerotto, antilitteram, se così possiamo dire, diventa sparatrappo. Ma a Napoli la D diventa T e diventa una cosa più simpatica e più onomatopeica, se così possiamo dire, definire questo termine. E qui però lo sparatrappo diventa un veicolo, un veicolo d'amore, ma non vi dico altro perché il libro va letto. In questo libro che incuriosisce per come lo stai proponendo e anche per la tematica, sicuramente c'è un messaggio, qualcosa che tu volevi far passare. Qual è? Se c'è. Allora, apparentemente il messaggio non c'è. In realtà invece il messaggio c'è e come. E non a caso hanno deciso di presentarlo il 25 novembre, in una data particolare. Perché il protagonista, Mario, non vi dico perché e come, inizia ad avere una sorta di cambiamento. Cambiamento nel considerare la donna non più come oggetto, ma diventa altra cosa. E poi il fil rouge che lega tutta la storia è uno pseudo tradimento o un tradimento. Voi lo capirete solo arrivando alla fine. C'è una frase iniziale del marito che in questo giorno dice tante tante cose. Io la cira. E da qui inizia tutto il mistero e tutta la ricerca. Ma poi alla fine c'è il lieto figlio. Non dovrei dirlo perché si tratta di un giallo, ma vi annuncio questo. Cioè non è una storia che finisce male. Quindi vi invito a leggere. Diciamo che i gialli hanno un po' questa caratteristica. Sia quelli televisivi che quelli scritti solitamente hanno un finale, tra virgolette, rassicurante. Forse per questo piacciono tanti. Alcuni psicologi e sociologi dicono questo. Non lo so se corrispondi al vero. No, in questo caso è diverso perché qui è tutto un gioco, un gioco di parole. Gli indizi vengono dati nel pensatoio di Mario che è la doccia. Mentre lui canta canzoni neomelodiche. È una cosa molto ironica, divertente. Quindi è diverso dal giallo classico. Nel primo addirittura non c'era una soluzione. Nel primo di Mario la soluzione la dava il lettore. E ognuno dava una soluzione diversa perché c'era un ventaglio di soluzioni. Insomma ho provato un po' a giocare con questo genere letterario che a differenza degli altri generi letterari ha uno schema ben preciso. Ma perché io su Curious amo giocare con le parole e con le storie. Ho provato a rompere tutti gli schemi ed è uscito fuori questo personaggio che vi consiglio. Questo personaggio ha un ufficio. Un ufficio davanti all'ospedale di Castellammare di Stabbia. Ed è un ufficio viaggiante perché è un appunto. È un'auto nella quale lui aspetta i suoi clienti. Insomma meglio non dire altro. È tutto particolare. Leggete, leggete, leggete lo sparatrappo. Ti faccio un'ultima domanda. Tu stavi facendo la chiusura ma io ti faccio un'altra domanda. Tutta questa fantasia, tutte queste storie che viaggiano un po' nella tua testa da dove arrivano? Una volta ho letto da qualche parte ma non ricordo che la scrittura per te rappresenta un modo per trovare un'evasione ai tuoi pensieri che a volte lasciati lì potrebbero dare problemi. Sì, no, io lo scrivo sempre in quarta di copertina che io scrivo per non andare in analisi. Molte volte scrivo per me più che per i lettori. Questa è una cosa che uno scrittore non dovrebbe dire perché tutti i lettori si aspettano sempre che il libro sia per loro. Invece il libro diventa per loro. Inizialmente è un libro per me. Io scrivo appunto per provare a non andare in analisi. E in questo libro, così come in tanti, io la cosa che faccio è non invento nulla. Cioè nel senso che i personaggi sono inventati ma sono presi dalla realtà. Io provo ad acchiappare quello che c'è nell'aria e la dico così, provo a trasformarla in letteratura. Ma tra virgolette, molto ma molto tra virgolette. Va bene, grazie. In bocca a tutti per questa serata. Grazie a te, grazie a voi. Leggetelo Sparatrappo. Lo spicciafaccende, l'amore e il mistero. Mea edizione. Grazie. Grazie a tutti.